E allora la liberazione dell'Italia passa attraverso la liberazione dalle mafie ma anche dai poteri forti americani che hanno occupato la politica e non vi stupite se vedete c'era un giornalista poco fa che diceva ma questo collegamento fa Farage e il Movimento 5 Stelle. Ebbene io gli ho dato un'equazione. British National Party, Farage, Forza Nuova, 5 Stelle. Sono due facce della stessa medaglia, sono lo stesso meccanismo che è stato utilizzato per bloccare le forze nazionalpopolari britanniche e le forze nazionalpopolari italiane. Sono due espressioni delle ambasciate americane. Lo abbiamo denunciato. Grillo la prima cosa che fece prima di avere la spinta da Sky e dai media fu andare all'ambasciata americana e parlare con l'ambasciatore Spogli. Che lo interrogò per ore e poi disse scrivendo a Condolisa Rice questo è un uomo affidabile. La stessa cosa è accaduta per Farage. Quindi l'America che cosa vuole? Che le ambizioni o le espressioni anti-europei, anti-euro debbano essere rappresentati da due traditori. Che sono Grillo e Farage. E Forza Nuova e BNP non devono ammottentirsi. Ed è la stessa cosa che stanno facendo in altri paesi. Stanno cercando di bloccare le forze libere che comunque anche dopo le sconfitte hanno questa forza di andare avanti. E allora perché si va avanti? Perché abbiamo garanzia e certezza della vittoria. La vittoria sarà una vittoria europea che partirà dal Portogallo e arriverà fino alla Russia. Perché costoro non si aspettavano che la Russia si sarebbe risvegliata. Che dopo 70 anni di comunismo, omicida, assassino e distruttore il grande popolo russo avrebbe di nuovo rappresentato una grande garanzia di libertà. E allora, conci che l'Europa si sta svegliando, conci che i nostri nemici americani e sionisti stanno effettivamente assistendo al tramonto del loro potere, conci del fatto che è fondamentale che movimenti come i nostri continuino a battersi per le strade e continuino a rappresentare la vera proposta sociale e politica, conci di questo, noi sappiamo che la vittoria dovrà arrivare. Non sappiamo il mese e il giorno, ma sappiamo che è imminente. Sappiamo che il nostro popolo è pronto e sentiamo già l'odore della battaglia, che è una battaglia che abbiamo già visto nel passato. Ma quando gli europei sono stati uniti, quelle battaglie sono state vinte. Viva Forza Nuova! Viva l'Europa! Forza Nuova! Orgoglio Nazionale! Nazione! Rivoluzione! Europa! Nazione! Rivoluzione!